Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale Veri ASMR, io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR rilassante, oggi come avrete potuto vedere dall'anteprima utilizzerò il foam, grazie a Giulia che ha scelto questo regalo direttamente dalla mia lista Amazon, a proposito se avete voglia di dare un'occhiata e fare magari un regalino al canale potete guardare giù in infobox perché vi lascio il link alla mia lista Amazon Il regalo di Giulia prevede una scatola con tantissimi vasetti di foam clay o play foam, insomma il Crunchy slime, io qui ne ho un paio ma ce ne sono di tanti colori, rosso, giallo, blu, bianco, verde, arancione e quindi oggi li utilizzerò per farvi addormentare, è un trigger che spoiler alert voglio riproporre anche in futuro perché trovo che sia davvero molto 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 rilassante quindi voglio riprovarlo anche col microfono binaurale ad esempio ne avevo già fatto uno piuttosto vecchio di video con il foam e il microfono binaurale ma voglio riprovarci tutto quello che dovete fare per voi è indossare le cuffie, distendervi o mettervi comodi e lasciare ovviamente un like di supporto a questo video se l'idea vi piace e iscrivervi se non siete ancora iscritti al canale e noi iniziamo e noi iniziamo ti addormenterai in pochissimi minuti ti addormenterai in pochissimi minuti e non vedo l'ora di scoprire quanto sia soddisfacente il suono del grunge di mano con questo microfono per quanto mi riguarda anche la manipolazione della slime è un potentissimo trigger questo è un piccolo trigger questo è becoming un piccolo trigger tutto questo è un solo disco 藍oc включito le fibre comunque vi facciamo un piccolo apposamento quindi ma Vi lascio, ti lascio, in info box anche il link. Per acquistare, se vuoi, questo genere di slime, lo trovo molto diverso rispetto a quello venduto ad esempio da Tiger, che è molto più obbligioso e meno gestibile. Questo ha anche un ottimo profumo, a mio avviso, conto però che io apprezzo dei profumi particolari come quello della benzina o dell'evidenziatore. E se mi piace il profumo del tasso del buco. Grazie. 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 A questo punto dovresti aver provato già qualche brevito. Grazie. Questo significherà che sei sensibile all'asmr. non ti viene voglia di toccarlo? Adesso cambiamo colore, restiamo sempre su un fluorescente. poi posizioniamo questo, la vaschetta. Ma ci e i miei vicini sono particolarmente scatenati. magari l'asmr facessi effetto anche su di loro. faam faam cly ok questa è un torbifort trovo il movimento dello strizzare lo slime crocce 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 flying molto 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 rilassante tu che ne pensi? c'è chi lo ama? e chi lo odia? tu di quale categoria fai parte? ho in mente il tema per utilizzare un altro di questi crunchy slime in un prossimo momento spero che ti piaccia l'ambientazione e l'atmosfera che ho creato per questo con questo sfondo azzurro mi verrebbe quasi voglia di mangiarlo questo slime mi raccomando non fatelo a casa utilizzatelo solo per giocare come antistrasse come antistrasse bene spero che questo video dedicato al suono dei crunchy slime suono croccante e al facial trigger di queste due paste ammottellabili fluo ti sia piaciuto come al solito ti ricordo che giù in descrizione puoi trovare tante informazioni utili compreso il link affiliato al sito di pampling dove è attiva ancora la promozione 3 maglie a 30€ e tutte le successive solo a 10€ anche oggi sto innessato una maglie di pampling una delle mie preferite ma l'avrete già vista in un altro video quello con prescilla ve lo linko da qualche parte nella scheda informazioni e sicuramente anche su instagram dove vi ricordo di andare a seguirmi se ancora non mi seguite per oggi è tutto un po' rilassamento e una buonanotte 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 buonanotte